Musica Camioni in fiamme stamattina sulla statale a Ferriolo, danni agli edifici vicini, forti disagi al traffico L'Ite finisce con un accoltellamento successo ieri sera a Intra, arrestato dalla polizia un 58enne noto alle forze dell'ordine Accordo transattivo provincia-regione per 17 milioni di euro, l'incio, eccellente prospettiva di sviluppo economico e sociale Per la prima volta diminuisce l'incidenza dei tumori in Piemonte, stato riferito a Verbagna nel corso della giornata della bussola dei valori Oggi e domani al Calvario di Domo d'Ossola, le giornate fai di primavera, ci c'erroni gli alunni del Rosmini International Campus Basket domani alle 18 con diretta su Vicio Azzurra TV, la Paffoni rende visita alla capolista Piombino Ben ritrovati dalla redazione di Vicio, notizie e cronaca in apertura di giornale con il camion in fiamme questa mattina Sulla statale a Ferriolo, danni anche agli edifici vicini alla strada Brutta disavventura questa mattina intorno alle 9.30 per un camionista di Orto Frutta e per alcuni residenti di Ferriolo di Baveno Il mezzo ha preso fuoco mentre si stava dirigendo verso Baveno Estresa Il conducente, avvisato da alcune persone in transito, una volta passata la rotonda ha arrestato la corsa ed è immediatamente sceso dal camioncino Negli istanti appena successivi le fiamme sono divampate avendo iniziato ad interessare anche la ruota anteriore destra E così il fuoco ha intaccato anche le vicine abitazioni provocando ulteriori danni Le case sono state subito evacuate e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per sedare l'incendio di discrete proporzioni La circolazione sulla strada statale 33 è stata bloccata per alcune ore e a regolamentare il traffico sono stati i carabinieri e la polizia Tanta paura per il conducente di origini asiatiche, per le famiglie coinvolte, per i clienti del bar vicino I primi soccorsi sono stati portati proprio dal titolare dell'esercizio e dai suoi clienti che hanno assistito dal vivo alla spaventosa e preoccupante scena Alla fine la vicenda si è conclusa senza gravi conseguenze per gli interessati Per accertamenti circa possibili intossicazioni da fumo sono stati trasportati in ospedali residenti delle abitazioni E gli ultimi aggiornamenti da Ferriolo sono due le abitazioni danneggiate La prima che fino a qualche mese fa al Piano Terra ospitava un'agenzia di pratiche auto è attualmente sfitta In quell'accanto che è registrato danni al tetto vive una coppia di anziani che è subito stata fatta uscire di casa I due stanno bene, resta inagibile il sottotetto ma i signori vivono al primo e secondo piano e quindi sono potuti rientrare a casa Ci sono ancora detriti in via Mameli che divide i due edifici Si sta tendendo la dita incaricata per la loro rimozione Il sindaco Maria Rosagnò che ha deciso nel frattempo di chiuderla per sicurezza Potrebbero appartenere a Dino Fariselli Le ossa trovate stamattina dalla polizia provinciale arene nella Valle degli Orti Dell'uomo, 78 anni, dirò non si hanno più notizie Dallo scorso 27 di settembre era venuto in Valle Vigezzo per cercare funghi A lungo lo avevano cercato i soccorritori ma di lui nessuna traccia Ora sarà il medico legale a stabilire se si tratta di Fariselli Una lite finisce in accoltellamento E' successo ieri sera a Intra E' stato arrestato un uomo di 58 anni che è già noto alle forze dell'ordine E' ferito un giovane che è stato medicato all'ospedale Castelli E' finita con un accoltellamento La lite è scoppiata ieri poco prima delle 20 in piazza Don Minzoni a Intra La volante della polizia ha arrestato un 58enne già noto alle forze dell'ordine Maurizio Rossi che avrebbe colpito un 21enne con una lama Il giovane medicato al Dea del Castelli ha riportato ferite sul volto e la gamba destra Fortunatamente non gravi Guarirà in dieci giorni A chiamare la polizia sono stati proprio i sanitari Gli uomini del commissario capo Giuliano Ciraldo hanno raccolto la testimonianza del ferito E sono poi andati a prendere il 58enne a casa per arrestarlo Quest'ultimo stamattina in tribunale per l'udienza di convalida Invece è sostenuto di essere stato la vittima dell'aggressione e di essersi solo difeso Il giudice gli ha chiesto di mostrare lesioni o tagli con esito negativo Ha poi disposto la misura dei domiciliari chiesta dalla PM Anna Maria Rossi L'8 aprile si terrà l'udienza del processo Intanto la polizia è ancora al lavoro per identificare un terzo uomo Che sarebbe stato presente e che avrebbe partecipato all'aggressione Definita la transazione tra regione e provincia Boccata d'ossigeno per le casse dell'ente del Tecnoparco Il presidente Lincio parla di un'eccellente prospettiva di sviluppo economico e sociale per il nostro territorio Accordo transattivo tra regione Piemonte e provincia del VCO Per 17 milioni di euro 14 sono in arrivo La notizia arriva dal presidente provinciale Arturo Lincio E fa tirare un sospiro di sollievo alle casse dell'ente del Tecnoparco La partita è stata curata da Lincio e dal vicepresidente piemontese Aldo Reschigna Per la parte politica e dal giudice Carlo Crapanzano E dall'avvocato incaricato dalla regione Giuseppe Piccaretta Per la parte tecnico giuridica La bozza di transazione verrà sottoposta a fine mese all'approvazione definitiva Della giunta regionale e agli organi provinciali Ma la serietà e la professionalità dimostrate nella trattativa Hanno portato il Consiglio regionale del Piemonte ad approvare il bilancio di previsione Con già all'interno i termini dell'accordo Precisa Lincio L'approvazione, ve ne avevamo dato notizia, è stata il 21 marzo Gli articoli che riguardano la trattativa sono l'8 e il 10 L'accordo prevede che per ogni anno dal 2015 al 2017 La regione verse alla provincia 3 milioni di euro per un totale di 9 Per garantire le funzioni amministrative derivanti dalla diforma del Rio Dal 2019 la regione verserà la somma annuale di 4 milioni di euro Per l'anno 2018 la somma è di altri 4 milioni Dei quali 3 sono già stati anticipati a fine dicembre Dopo la firma della transazione arriveranno per il VCO quindi 14 milioni di euro Al netto dei 3 già ricevuti Come contropartita la provincia rinuncia al contenzioso pendente presso il Tar del Piemonte La cui udienza è fissata il 12 giugno Ulteriore buona notizia che a seguito della modifica del decreto legge 135 del 2018 La provincia riceverà già da quest'anno almeno il 60% dei canoni idrici dall'amministrazione regionale Pari a 6-8 milioni di euro annui L'Incio esprime particolare soddisfazione e riconosce al vicepresidente Reschigna La fattiva e fruttuosa collaborazione che ha portato all'importante risultato Un ringraziamento anche al giudice Crapanzano per quanto fatto col collega Torinise Il presidente del VCO è convinto che su queste basi si possa aprire finalmente un'eccellente prospettiva di sviluppo economico e sociale per la nostra provincia Con 10-12 milioni di euro in arrivo ogni anno Per il 2019 tra transazione e canoni idrici attesi fino a 22 milioni di euro E diverse le reazioni politiche a questa notizia ve ne daremo conto nel corso delle prossime edizioni del nostro telegiornale Ora parliamo del Consiglio Comunale di Omenia che si è riunito ieri sera Confermata dal Consiglio Comunale di Omenia la nuova raccolta differenziata all'ordine del giorno è stato votato dalla sola maggioranza Mentre le minoranze si sono astenute Le novità entrate in vigore dal gennaio 2019 prevedono che il verde venga raccolto con un bidone carrellato E l'indifferenziato venga raccolto il sabato e non più a lunedì Le modifiche stanno funzionando ha detto l'assessore all'ambiente Mattia Corbetta Non sono però mancate alcune segnalazioni da parte delle minoranze L'assessore si è dimenticato che avrebbe dovuto organizzare un incontro sull'argomento con tutti i capi gruppo e con Servicio Ha sottolineato Mauro Empolesi Capogruppo di Omenia si cambia Il problema rifiuti non si risolve sicuramente con queste modeste modifiche Ha aggiunto il democratico Alessandro Rondinelli Auspico che sia soltanto l'inizio del percorso Credo che Omenia abbia bisogno del sacco conforme per migliorare le proprie percentuali Gli aumenti delle tariffe dell'Atari ad Omenia sono diminuiti dal 7,1% al 5,6% A seguito della decisione del Consorzio rifiuti del VCO di contenerli almeno per il 2019 Tra l'altro il Consiglio Comunale ha augurato buon lavoro al neopresidente del Consorzio Francesco Perrone E ad Alessandro Rondinelli confermato nel Consiglio di Amministrazione dell'Ente Approvati all'unanimità il regolamento DEOR Il nuovo progetto sul mercato del giovedì e il piano colore A tal proposito il sindaco Paolo Marchioni ha detto Stiamo studiando una convenzione per incentivare i privati a sistemare le facciate esterne dei palazzi Creeremo un fondo dai 30 ai 50 mila euro Sono state inoltre aperte le valutazioni sull'istituzione in via sperimentale dell'isola pedonale in piazza Salera Nei fine settimana come richiesto da Omenia si cambia È stato dato l'ok anche ad alcune importanti varianti urbanistiche Da oggi l'edificio Sito ai piedi della rampa di via Fossalone può trasformarsi in un albergo Ha precisato il primo cittadino così come potrà essere alzato di un piano l'ex albergo Vittoria Inoltre l'ex stabile della IRM potrà diventare un parcheggio Silos Con soltanto l'ultimo piano destinato ad attività commerciali come ad esempio uno Sky Bar Restiamo a Omenia Ieri sera auto nel lago Attimi di paura Fortunatamente a bordo non c'era nessuno L'allarme l'hanno dato alcuni ragazzi che avevano visto intorno a luna un'auto finire in acqua Nella zona del parco giochi sulla rampetta di lungo lago Gramsci Immediato l'intervento di vigili del fuoco Sommozzatori, ambulanze e carabinieri Per fortuna l'auto, l'abbiamo detto, era senza conducente Il proprietario che poco dopo è arrivato aveva dimenticato di tirare il freno a mano E la campagna elettorale si infiamma sul tema dell'ospedale nuovo Era prevedibile che il tema ospedale nuovo avrebbe infiammato la campagna elettorale A rispetto degli appelli in senso contrario su tutto quello dei sindacati In un recente convegno La scorsa settimana la prima sparata era stata quella di Preioni Che aveva ribadito con forza il no suo e il riflesso della Lega all'ospedale nuovo di Ornavasso I 200 milioni si investano in parti uguali sulla ristrutturazione e sul potenziamento di San Biagio e Castelli Aveva dichiarato il sindaco di Borgo Mezzavalle Altro fuoco alle polveri lo ha dato anche il primo cittadino di Omenia, Paolo Marchioni Contestando invece l'ubicazione di Ornavasso Sono a favore dell'ospedale nuovo ma non a Ornavasso che ritengo sia una soluzione folle Con milioni di euro solamente per strade e parcheggi Piuttosto arrivo a dire che lo si costruisca alle porte di Domodossola Facendo felici gli ossolani e che si vada nella direzione di una privatizzazione dei Castelli Ha detto Marchioni Dichiarazioni quelle di Preioni e di Marchioni che hanno provocato una sequenza infinita di repliche Prima il pedidi Omenia con l'invito ai consiglieri di maggioranza da parte del capogruppo Alessandro Rondinelli A far tornare il lume della ragione, così Rondinelli, alla sindaco per la tutela della salute dei cittadini omenesi Distinguo anche da Fratelli d'Italia con la presa di posizione di Mattia Corbetta Assessore all'Omenia e l'esponente di spicco del partito di Giorgia Meloni Noi siamo favorevoli senza alcun dubbio all'ospedale nuovo Che vogliamo sia realizzato in una posizione baricentrica E che non può e deve essere a Domodossola, Verbagna o Omenia Su Ornavasso si è già in fase avanzata Cerchiamo di non buttare tutto all'ario La sottolineatura di Corbetta Ieri anche i medici di famiglia attraverso un comunicato stampa Hanno definito come irrinunciabile la realizzazione dell'ospedale nuovo Mentre la lista civica Verbagna Viva ha tirato per la giacchetta Il candidato sindaco del centrodestra a Verbagna Gian Domenico Albertella La Lega decide e Albertella è succube Altro che difendere gli interessi del territorio e dei cittadini di Verbagna Noi ribadiamo che va portata avanti con coerenza l'idea dell'ospedale nuovo A Dornavasso in zona baricentrica come deciso a grande maggioranza Dall'assemblea dei sindaci due anni fa con il voto dello stesso Albertella La dichiarazione degli esponenti della lista che sostiene Marchionini Insomma a poco più di due mesi dal voto regionale ed amministrativo La sanità si conferma un tema caldissimo Ed è delle scorse ore la presa di posizione della lista civica Insieme per Verbagna e Albertella sindaco parla di propaganda elettorale Rispetto agli attacchi di pediele esteticiviche Di un tentativo di spostare il dibattito per mascherare il vero problema Cioè il fallimento del loro progetto di realizzazione dell'ospedale unico Arnavasso Evidenziati impegni non mantenuti In un comunicato viene spiegato che saranno necessari almeno due anni Per poter avviare la costruzione del nuovo ospedale A cui vanno aggiunti i tempi per la sua realizzazione Almeno 6-7 anni e l'aumento dei costi Si parla di mancanza di garanzia rispetto anche al futuro più prossimo dell'ospedale Castelli E di totale silenzio sulla sua futura destinazione Da qui la battaglia per difendere e potenziare il nosocomio verbanese Giornata della bussola dei valori all'ospedale Castelli di Verbania Parliamo dei principi e dei protocolli che seguono tutti i soggetti coinvolti nella rete oncologica regionale E' emerso un dato importante Seconda giornata della bussola dei valori della rete oncologica piemontese e della Valle d'Aosta Che si è aperta con una bella notizia La diminuzione dopo tanti anni dell'incidenza dei tumori nella nostra regione Il Piemonte per il primo anno registra un calo, una riduzione dell'incidenza L'incidenza sono il numero dei nuovi tumori, dei nuovi pazienti Che vengono a conoscenza di avere questa malattia nel corso dell'anno Per cui un calo di questo dato è un dato ovviamente molto significativo Perché per la prima volta dopo tanti anni di crescita del numero dei tumori Cominciamo a vedere una luce che è una riduzione dell'incidenza Non è un dato che si registra in tutta Italia Anzi in alcune regioni, in particolare nel meridione, vediamo un trend contrario Questo significa che l'azione di prevenzione Perché contro il tumore in questa fase bisogna fare solo prevenzione Comincia ad avere i suoi effetti Ed è un risultato di cui la rete regionale piemontese della Val d'Aosta Può sicuramente andare a fiere e noi come operatori sanitari Ricordiamo che cos'è la bussola dei valori Sì, la bussola dei valori è un modello culturale di riferimento Per quelli che sono gli operatori in oncologia A cui devono appunto gli operatori stessi attenersi Nel momento in cui, sia dal punto di vista comportamentale Che della costituzione di modelli organizzativi Piuttosto che di quelle che sono delle prestazioni operative Quali sono i numeri locali delle neoplasie? I numeri locali noi abbiamo fatto Teniamo conto che a livello territoriale piemontese L'incidenza nel 2018 sono stati circa 30.000 casi l'anno Con una mortalità di circa 14.000 Quindi poco meno del 50% E in VCO i casi stimati nel 2018 sono stati circa un po' più di 1.000 Naturalmente le neoplasie che la fanno da padrona Sono quelle che la fanno da padrona su tutto il territorio nazionale Quindi tumore della mammella, tumore del colon, tumore del polmone E tumore della prostata Questi sono i quattro big killer Prima installazione di sensori a casa di una signora anziana Cavaglio Spoccia in Valle Cannobina Per il progetto Welcome Tech Obiettivo promuovere la qualità della vita della popolazione anziana vulnerabile a domicilio L'iniziativa si inserisce nel programma Interreg Italia Svizzera 2014-2020 Partner del progetto a livello locale sono Sacrafamiglia, RSA Lagostina, Fondazione Opera Piauccelli, RSA Samonini e Comune di Domodossola Siamo a Spoccia in cima alla Valle Cannobina E oggi qui sono stati installati i primi sensori del progetto di Welcome Tech Da parte degli operatori svizzeri A casa della signora Aurora Che potrà continuare così a vivere qui in tranquillità Senza dipendere da nessuno e facendo stare anche più tranquilli i suoi figli Sono venuta qui insieme a altri operatori Per installare dei sistemi di monitoraggio ambientali Che servono a rilevare tutte le abitudini della signora che vive da sola E nel momento in cui queste abitudini cambiassero Viene inviato un alert a un telefonino di un familiare In modo che si possa arrivare se la signora avesse bisogno in tempi brevi A rispondere al suo bisogno che potrebbe essere magari neanche un bisogno eccessivo Ma potrebbe essere una sicurezza per i familiari che sanno di avere quella mamma Ecco questa signora è informissima e vive qua parte dell'anno Quindi potrà tranquillamente continuare a mantenere le sue abitudini Certo questo è un monitoraggio ambientale senza immagine e senza suono Quindi la signora può continuare a trascorrere le sue giornate come le trascorreva prima Solo mantenendo le sue abitudini ci sono questi sensori che nel momento in cui lei non si reca in cucina Ad una certa ora o piuttosto non si alza dal letto Questi sensori fanno partire poi un alert al telefonino del familiare Tutto questo si accompagnerà però anche a dei rapporti personali con il personale formato per questo progetto? Certo il progetto Welcome Tech istituirà dei corsi di formazione per operatori di comunità e os In modo da poter poi raggiungere la signora e tutte le altre persone che saranno inserite in questo progetto E tenere poi sotto controllo con altri servizi oltre ai servizi tecnologici anche con servizi erogati con personale A 74 anni di distanza Solcio di Lesa ha ricordato gli 11 partigiani fucilati nei pressi del vecchio imbarcadero Il 24 marzo del 45 la legge dei nazifascisti era impietosa Per ogni tedesco ucciso avrebbero dovuto pagare 10 partigiani Così è stato successivamente all'uccisione di un nazifascista il giorno prima Presenti alla commemorazione la rappresentante della provincia di Novara Michela Leoni La prefettura di Novara, il capitano dei carabinieri di Andrea Ceron Dal sindaco Roberto Grignoli il benvenuto Laura Pezzi ha tenuto l'orazione storica Due brani cantati dai ragazzi delle scuole E alle note della banda musicale La Volpina Diretta da Damiano Morellini Il corteo si è mosso verso il monumento che ricorda l'Ecidio Dove è stata posta una corona di camiglie Questo è il fine settimana delle giornate fai di primavera Andiamo al Sacro Monte Calvario di Domodossola Il Sacro Monte Calvario di Domodossola Protagonista oggi e domani delle giornate fai di primavera nel VCO Complice la bella giornata in molti hanno deciso di trascorrere parte di questo sabato Nel sito Unesco Ossolano Alla scoperta della Sala Bozzetti Della storia e dell'arte custodite nelle cappelle interne ed esterne E del santuario E ancora programmate visite alla Casa del Barone Caspar Stocalper Un'occasione per conoscere le vicende di un personaggio storico Non solo per il nostro territorio Si respirava aria di primavera poi nei panoramici giardini e negli orti del Calvario Ma perché la scelta di questo sito? Lo ha spiegato ieri la capodelegazione fai del VCO Ospite del nostro direttore al Sassonello Stagno Che ha proprio puntato i riflettori sulle giornate fai Questa è stata una scelta dettata dal cuore È un luogo stupendo Il Sacro Monte Calvario ha sempre attirato tantissimo l'attenzione anche del fai Questa è la seconda volta che torniamo su questo bene Ma questa volta abbiamo cambiato anche Ci siamo aperti di più a questa bellezza Una bellezza che in questi giorni viene raccontata da ciceroni speciali Sono gli allievi del Rosmini International Campus di Domodossola Che sono stati appositamente formati E che fanno in questi due giorni da guide turistiche al Calvario Le giornate del fai al Sacro Monte proseguono quindi anche domani Domenica apertura dalle 10 alle 12 e dalle 14 e 30 alle 17 Con l'organizzazione di gruppi di visitatori Ora la nostra programmazione con il ritorno di Princess Il reality dedicato al ballo delle debuttanti di Stresa L'evento sarà dedicata anche la puntata di Laghiemonti di domenica prossima 31 marzo Su VCO Azzurra TV torna Princess Il reality dedicato al ballo delle debuttanti di Stresa di Ape VCO edizione 2019 Per un viaggio a 360 gradi nel mondo delle deb Le telecamere le hanno seguite nel corso della settimana preparatoria all'evento Durante le lezioni, durante le escursioni sul territorio In occasione delle diverse serate organizzate Sino ovviamente al grande giorno, quello del ballo Il reality offrirà anche l'occasione per conoscere meglio le 15 ragazze Con una serie di interviste Dove saranno proprio loro a raccontare gusti, sogni, carattere, luoghi di provenienza Ricordiamo che partecipano ragazze da tutta Italia La regia di Princess è firmata dal giovane videomaker stresiano Luca Bellossi Il reality dedicato alle debuttanti E in onda la sua VCO Azzurra TV La domenica alle 14.45 Con repliche il lunedì alle 12 e alle 18.30 Domani la prima puntata Una decina, quelle che ci racconteranno Tutto il percorso compiuto dalle giovani per laurearsi DEB Domenica prossima, 31 marzo invece L'appuntamento con le debuttanti di Stresa raddoppia Anche il settimanale Laghi e Monti sarà dedicato a loro E in particolare alla serata di gala 2019 Con l'emozionante discesa della scalinata e lo scenografico ballo Una serata da sogno che potremo rivivere insieme a queste principesse per una notte Laghi e Monti è in onda su VCO Azzurra TV Come sempre la domenica alle 13.30, alle 19 e alle 23 In apertura di pagina sportiva il calcio Con la serie C e con il pareggio a reti bianche Tra Gozzano e Novara Andrea Calderoni Pari e patta come all'andata tra Gozzano e Novara Gli azzurri escono da Vercelli con qualche rimpianto per il Gozzano Sono 11 le partite consecutive senza successi sul campo Meglio il Novara nella prima mezz'ora con tre nitide palle gol prodotte La prima dopo appena cinque minuti capita Bomber Eusepi bravo nella giocata volante Pronta la risposta di Casadei nei minuti successive Altre chance per i ragazzi di Sannino Al diciannovesimo Nardi debole verso la porta Al trentaseiesimo ci prova ancora il Novara sugli sviluppi di corner Sul finire del primo tempo Altra super chance per i ragazzi di Sannino Eusepi non era pace, non sfrutta la sbavatura della difesa Nella ripresa al sesto tiro centrale parato in due tempi di Messias Al decimo Tuminelli colpisce di mano e spedisce Buzzegoli dal dischetto Casadei è un muro e respinge all'ottantunesimo Altra opportunità per il Novara Il neo entrato Gonzales spreca Nel finale Messias ci prova ma la difesa del Novara si salva E il punteggio non si sblocca Può sorridere comunque il gozzano di soda Imbattuto sui 180 minuti contro il più blasonato Novara Ancora la nostra programmazione basket in diretta domani su VCO Azzurra TV Dalle 18 c'è Piombino Paffoni Sfida per il primo posto Al palatenda di Piombino domani alle 18 con diretta del match in esclusiva Su VCO Azzurra TV a partire dalle 17.50 Il Golfo e la Paffoni si contendono al leadership del girone A Livornesi forti del più 4 in classifica sui rivali Maumegna è pronta a fare il colpaccio Per poi sfruttare un calendario decisamente in discesa Nelle ultime 4 partite L'esatto opposto di quello che invece attenderà la squadra allenata da Marco Andreazza Affrontiamo la squadra più forte del girone Tra le più accreditate a salto di categoria Noi dobbiamo giocare questa partita con leggerezza Consapevoli che comunque domenica saremo sempre primi Le parole del coach Veneto Che per tre anni è stato in riva al Lago d'Orta da vice allenatore Sul fronte opposto questa è l'analisi di Marcello Ghezzinardi Per una sfida del genere non c'è bisogno di una particolare preparazione Sono le classiche partite che si preparano da sole durante la settimana Perché l'attenzione, l'adrenalina e la carica dei ragazzi sono ai massimi livelli Ci attende un antipasto di playoff in un ambiente sicuramente caldo E in un palazzetto che sarà pieno e partecipe come avvigevano due settimane fa Mi aspetto una prestazione all'altezza della situazione Contro una squadra che non è prima per caso E che ha dimostrato di avere qualità e carattere Vincendo ad esempio tante partite nel finale La sottolineatura del tecnico della Paffoni Piombino sarà per l'occasione priva ancora del suo play Procaci Mentre la Paffoni dovrebbe essere a completo Con l'unica eccezione rappresentata da Alessio Donadoni Che peraltro sta intensificando la personale tabella di marce di recupero Appuntamento dunque per tutti gli appassionati di basket Alle 17.50 su VicoAzzurra TV Per la diretta del match che può valere il primo posto Siamo in chiusura per gli aggiornamenti www.vicoazzurratv.it Grazie per essere stati in nostra compagnia e buona domenica Grazie a tutti